Grazie Cesare, parleremo anche di questa nuova formazione politica, vedremo se si tratta solo di una indicazione stradale, quindi si perde nel traffico o è qualcosa di più. Sappiamo che ci sono manovre in corso, ma già le manovre sono molto evidenti a partire dalle prossime europee, ma anche le prossime elezioni della provincia, se ci saranno, e quelle della regione, ma l'hanno eletto l'anno scorso, ma sai ci si sta già lavorando. Un argomento di grande importanza è la sanità, allora c'è stata oggi una manifestazione, la vedete, partecipatissima, perché è quello forse che dovremmo fare anche noi ogni tanto per fare svegliare un po' anche la politica, come vedete partecipatissima per gli ospedali di Sciacca, ma anche quello delle Madonie. La partecipazione è stata così numerosa che ha costretto, ha invitato l'onorevole Presidente Schifani a incontrare il direttore generale del Dipartimento della pianificazione strategica dell'assessore della salute Salvatore Iacolino, commissario dell'ASPA di Palermo, per cercare di risolvere il problema di questi due ospedali, che sono a quanto pare, come dice la gente, davvero bistrattati. Abbiamo l'intervista con il sindaco Termini, vediamo.